Musica Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti al nostro nuovo video specialissimo super speciale ragazzi io sono Sigisverto e io sono la Spaspa la Spaspa non si sa perché e sapete perché questo video super speciale ragazzi lo Xyuder avrebbe forse detto un leak che sembrava incredibile e invece si sembra veramente vero lasciate perdere l'italiano perché sono gasato come una gallina le galline non sono gasate come una sprayta un lama quello come uno spray una scimmia tibetana una scimmia tibetana sgasata un cammello Ringraziamo ovviamente ragazzi prima di farvi vedere una figata quello che succede su Twitch o Youtube che ce l'aveva portato una stringa di codice ragazzi attenzione se andate su Twitter lo vedete dalle mie spalle sul Twitter ufficiale di Epic Games ragazzi guardate che cosa hanno twittato Guardate che cosa hanno twittato raga sette minuti fa coming to the item shop tomorrow raga pronto domani dovrebbe arrivare il cavaliere rosso raga incredibile incredibile ragazzi pronto Allora ragazzi questo era un video velocissimo perché specialissimo l'hanno twittato sette minuti fa una chicca un miliardo di like per questo video preparate i soldi domani me lo shoppo pure io frega niente No te non te lo shoppi perché è una femmina devi andare a logica hai detto che le femmine non te le shoppi 30 euro shoppati domani un bel like ciao No